La libertà è un'avventura che non finisce mai Giorgio non ho mai pianto in diretta, gentilmente vorrei... Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione e buona visione Ciao a tutti ragazzi, buonasera, 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 buonasera Oggi live particolare, voi che dite? Sì, mi autorimando con la transizione Allora ragazzi, come funziona, come funziona? Noi ora facciamo una live normalissima, ci facciamo un pochino di battle spot Ci eravamo lasciati martedì in 46esima posizione Probabilmente saremo in 700-800esima posizione adesso che non abbiamo giocato per 5 giorni Quindi ci avranno sorpassati veramente in tanti Calandrone, anche lui un altro dei nostri mods Senza i quali non si farebbe niente Grazie mille Dopodiché ha una certa Boh, ma fra neanche tanto Alle 18.30 Quindi si fa giusto due match Io chiamo su Discord il buon Giorgione Che ha una cosa da dirvi E poi abbiamo una cosa da dirvi Ambedue per non dire entrambi Quindi insomma Una live un po' più speciale Eccomi Giorgione Ciao Ciao, eccomi Aspetta eh, che ti devo ancora mettere Ti devo ancora sistemare I ragazzi ti sentono ma ancora non ti vedono Ciao a tutti Non mi vedete? Forse è meglio Oggi non sono a questo spettacolo fantastico Tolgo la mucchina Eh sì, perché sennò è product placement Giorgio Più che altro Metti Metti la camera girata in orizzontale Mi sa che devi abilitare Eh ma devi abilitare Come si chiama? La rotazione automatica Non ti preoccupare Ci casco sempre anch'io Aspetta E come si fa? Boh No, aiuto ragazzi Perché è la prima volta che No, mi sto perdendo Non ti preoccupare Giorgio Numero uno ragazzi Numero uno Allora, io chiaramente Aspetta Cari amici Stanno arrivando gli abbonamenti Non vi posso ringraziare al momento Perché siamo alle prese Con un grande ospite Vi ringrazierò casualmente Il grande ospite ragazzi Adesso è in difficoltà Perché non riesce più a rivedersi Metto giù i richiami Sì, tranquillo Giorgio Non so come abilitare Devi mettere, guarda Devi mettere La rotazione automatica sul telefono Cioè che quando giri il telefono Si autogirano le cose Certo Vabbè dai Se no Se no ti mettiamo Vediamo Si prova Se no ti si Aspetta Tant'ora usa tutto orizzontale Ti richiamo Dai No, ma ce l'ho Dai richiamami Scusate ragazzi Scusate Numero uno ragazzi Numero uno Io ve l'avevo detto Voi non ci credete No, voi ci credete Voi ci credete Ci credevate Sì, ho cambiato schermo giallo Perché ora cambio schermato Che palle Non mi vedo io Giorgio Aspetta Vai Eccolo Eccolo Allora adesso ragazzi Ciao Io ti sparo eh Ti sparo in diretta Vai Adesso è in mezzale Adesso Ok Va bene Male male vai così No E noi non ci offendiamo Vai Perfetto 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 E anche prima era così Ma la tecnologia è così Giorgione No ragazzi Noi siamo di un'altra No ma non fate Non fate arrabbiare Charizard Perché No Lo sapete Qual è Lo sapete Qual è il mio Lo sai Francesco Quali sono i miei due Pokémon preferiti Io non voglio saperli No Dimmi Dimmi Io lo voglio Io lo voglio dire Allora uno Non è qua È a casa Perché è a casa Oggi non c'aveva voglia Piove È Mewtwo Ah vabbè E fin qui Già Cioè E fin qui Ti possiamo dire Che sei nel club Di Mewtwo Proprio pieno Eh perfetto È il mio preferito E qua in studio Mi è arrivato Charizard Che è il mio secondo Pokémon preferito Perché io adoro I draghi Giorgio Oltre che i Pokémon Fermati lì Un secondo Ma proprio guarda Sì Vabbè Ora te non lo vedrai Perché non lo puoi vedere No Lo volevo prendere Dentro la vetrina O esattamente Lo stesso pupazzo Che arriva dal Giappone È lo stesso Eh Infatti anche questo No A me arriva Non posso fare pubblicità Vero? No No Non si può dire Che arriva da King of Games Ormai l'hai detto No vabbè È il mio fornitore principale Di tutte queste cose qua Senti Ciao Francesco La chat è in visibilio Io non li vedevo così All'incirca dalla semifinale Con la Germania Del Del 2008 Ripulisco Ciao ragazzi Ciao Ciuma Ciao a tutti Senti Io sono Lo stavo dicendo prima No Ma vabbè Te l'ho detta anche oggi Nel frattempo ragazzi Ditemi se lo sentiamo Se lo sentiamo bene Se lo sentiamo Alto Con un audio Se lo devo alzare Ad abbassare Insomma Ci penso io a quello Stavo dicendo Sono veramente Stracontento Di portarti sul canale Di farti conoscere Perché insomma Quando ti conobbi Ai tempi del video Sole e luna Da allora Avevo cominciato da poco A fare i video Un annetto E lì mi sono sempre ripromesso E prima o poi glielo porto E prima o poi glielo porto Eh hai fatto bene E ci sono Ecco Sì sì vai vai Io non ti dico niente Io c'ho il gris No scusate ragazzi Ho preso una bevanda Di cui non posso dire niente No 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 non si può Non si può Perché ho un po' di sete E allora Vai tranquillo Anch'io No perché Vado avanti a spray gula Perché sto Perché sto provando Sono qua in studio Che sto provando Per Per il live Di mercoledì sera Vai Sparacelo Dillo pure Dillo pure Tutto Sono tutti i tuoi Mi stanno arrivando 200 messaggi Anche da Lillo Dal mio Dal mio figlio Vabbè Ragazzi Ti alzo il volume Ti sparo proprio Ti sparo proprio A cannone Ok Mi sentite ragazzi Vai 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 Allora Mercoledì sera Alle 21 Live In room Facciamo Un piccolo show Piccolo grande show Una storytelling Suoneremo E canteremo Io L'ammiraglio Max Max Longhi Che è Diciamo così L'ammiraglio Il compagno Di avventure Che Con cui abbiamo prodotto E realizzato Tutte le sigle Che abbiamo fatto Insomma E E i figli di Goku Che sono il nostro Gruppo Il nostro gruppo Faremo questo live In streaming Andate tutti Se siete interessati A raggiungerci Andate tutti A vedere le mie storie Il mio post Perché Tramite le info Potete appunto Raggiungerci Prendere un biglietto Se volete O in prima fila O il semplice streaming In prima fila Potete interagire Con noi Ok Quindi Ci si può Togliere il reggiseno Quando parte Oltre i sieli Dell'avventura La libertà È un'avventura Che non finisce mai Giorgio Non ho mai pianto In diretta Gentilmente Vorrei Sì E allora Comunque sto Sto linkando Cari ragazzi In chat Il link Dal quale potete Accaparrarvi Questa cosa Io sarò presente Ve lo dico Quindi scusami Se ti ho interrotto Prego Wow Fantastico Allora niente Mercoledì sera Alle 21 Questo live in room Questo live streaming Dove suoneremo Anche oltre i cieli Dell'avventura Poi basta Non posso spoilerare Troppo Parleremo un po' Io e l'ammiraglio Max Racconteremo anche Che cosa stiamo facendo In questo periodo Anche perché uscirà Una cosa fantastica Fighissima E niente Potete raggiungerci Appunto lì Mercoledì sera Alle 21 Andate Intanto Francesco Molto gentilmente Grazie Ma ci mancherebbe Ma guarda Ma anche Charizard Ti ringrazia Ah che carino Vanno d'accordo Charizard E Zoro Sì 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 Vanno d'accordo Ma anche con gli altri Poi mi spieghi Queste tue visioni No ma vabbè Ma io sono animista Nonché ci fai vedere Lo Zoro vero dopo Comunque Va bene Dopo faccio uno spoiler Perché ancora Non Allora perdonami Scusami Benissimo No no va bene L'ho già fatto vedere L'ho già fatto vedere ieri Poi ovviamente Lo posterò Lo posterò Comunque Cosa mi stavamo dicendo Della live di mercoledì Sì Ok Mi potete raggiungere Anzi stavo dicendo Grazie Francesco Per questa opportunità L'opportunità di Promuovere questa live È un po' un esperimento E una voglia proprio Di ritornare sui palchi In questo periodo Adesso piango io Piango io Non si può Perché purtroppo Il covid ha bloccato Tantissime cose Tantissime attività Tra cui in particolare In particolare Gli spettacoli dal vivo E noi allora cerchiamo Di rifare un pochino Di ridare Un pochino Questa atmosfera Facendo questo live In streaming E per cui niente C'è questo link Che vi ha girato Francesco Oppure potete andare a vedere Sui miei post Eccetera eccetera Adesso vi faccio vedere Una cosa Quando io dico Che amo veramente Quello che faccio Non scherzo Perché Ma si vede Non ti preoccupare Eccolo qua Il mio patatino Adesso il mio patatino Questo qua è stato il primo Questo qua è stato il primo Però Giorgio Ti devi fare il Mewtwo Caspita Ma lo farò Me lo farò E questo è quello E Zoro Zoro che è Tra i miei personaggi Eccolo qua E questo è freschissimo Francesco Questo è freschissimo Perché l'ho fatto L'ho fatto Aspetta Venerdì O giovedì Dai non mi ricordo No venerdì Venerdì È freschissimo Quindi te praticamente ti sei detto Come finisce la quarantena Io mi vado a fare Zoro Eh ma era già Era già in progetto Era già in progetto Era già in campiere Sì anche perché Io faccio un po' Il testimonio di questa Tatuattrice pazzesca Che si chiama Francesca Mele Vai vai E di Abbiate Grasso Vai tranquillo Tanto Cosa bella di Twitch È che siamo liberi Si può dire Si può dire Culo Si può dire Tutti Siamo liberi No vabbè No io Le dico io Le dico io Le dico io Solo cose belle Francesca è bravissima Da Abbiate Grasso E niente È lì che fa i tatuaggi È molto molto brava Come avete visto Fa un tratto pazzesco E niente Io mi faccio i tatuaggi da lei Ecco Eh io guarda Io sono al momento Tatuaggi free Va bene Però ho giurato Ho giurato che Mi faccio un tatuaggio Mi farò un tatuaggio Solo in occasione Di un evento particolare Che insomma Via via che sto Invecchiando Sempre più il remoto Ossia quella Della vincita Dei mondiali No Dei mondiali ufficiali Io ti prometto Se dovesse essere Mi ci porti Per la mano Cantando Oltre i cieli Dell'avventura Ecco Allora Potrei No ragazzi Io dico soltanto Una cosa Se avete voglia Veramente Di fare un tatuaggio Francesca Mele È ad Abbiate Grasso E Vabbè Ovviamente Sul mio profilo Ci sono tutte le informazioni E se andate lì Vengo da parte del capitano Vi tratterà benissimo Ma io Io amo i tatuaggi E per quello Non è Cioè non è che faccio il testimonial Perché deve essere per forza Pubblicità Certo Certo Però è così Vabbè ma te Si vede che ami Tutte le cose Che hai Che hai Che hai cantato Ma neanche Cantato è quasi Sminuitivo Hai dato veramente Una voce Alle nostre passioni Quindi Io No ma poi Sono proprio Figli miei Edimace Dell'ammiraglio Perché noi abbiamo Composto Realizzato E io ho cantato Tante signe Insomma Ecco Ti dico una cosa A proposito dei pokemon Francesco Una soddisfazione Meravigliosa Meravigliosa Che mi fa spesso Commuovere Dimmelo E vede Spesso Quando li ho visti Ci sono 3-4 ragazzi In giro per l'Italia Che si sono tatuati A proposito dei tatuaggi Tatuati La libertà È un'avventura Che non finisce mai Allora I testi delle sigle Dei cartoni animati Che abbiamo fatto noi Sono stati Scritti Quasi tutti Quasi tutti Sì Praticamente tutti Da Alessandra Valerima Nera Alessandra Valerima Nera Grandissima Produttrice Di Cristina D'Avena Di Giorgio Vanni E di altri Ok Che scrive i testi Però Però La libertà È un'avventura Che non finisce mai È una frase Che ha scritto il capitano E io sono Perché ogni tanto Collaboravamo Anche per quanto riguarda i testi E io sono molto È proprio i pokemon E io vedendo questo orizzonte Ce l'avete presente L'orizzonte Certo Con quel cavallo Ponita Bravissimo Ash Con Pikachu Misty Che cammina E anche Come si chiama Brock Brock Stavo dicendo Brock Non è appunto Anche Brock E a me è venuta in mente Questa frase E io veramente Mi sono commosso Quando ho visto questi ragazzi Con tatuata La libertà È un'avventura Che non finisce mai Perché lo sento È una cosa Che sento Ma guarda Io ti posso dire E non te lo dico Te l'ho detto anche prima Mentre si faceva I setup tecnici Non te lo dico Per fatti sviolinate Ok In diretta Cioè Quando partono Quelle note iniziali Ma roba che Io dico Su oltre i cieli dell'avventura Sarei più lesto A indovinarla Dell'uomo gatto Di Sarabani Quando partono E non ti devi neanche Infilare i buffi No No Senza buffi Buff free Quando partono Quelle note lì Cioè Io Brividi E penso che Succede a me A gente A energumini Di 200 kg Di muscoli Come Gioele Te lo ricordi Il nostro È vero A cavoli Il nostro amato Gioele Che salutiamo Perché tanto sicuramente Sarà all'ascolto Cioè E fra 30 anni Sarà uguale Quindi complimenti Perché Grazie Ci dà sempre Veramente la carica Poi per carità Ora non è che siamo legati Solo al discorso Pokémon Io Bayblade Yu-Gi-Oh Tutto 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 Per l'amore del cielo Però Sai Un po' per Come si dice Deformazione professionale Ecco Oltre i cieli dell'avventura Più ancora Della prima sigla È proprio per le parole Che avete scelto È vero È vero È vero Beh allora Io dico Quella frase È venuta fuori Dalla mia testolina Dal mio cuore Però tutto il resto E poi Oltre i cieli dell'avventura Proprio È una frase È un titolo Che proprio Mi chiamava Chiamava tantissimo Questa Oltre Questa melodia Oltre i cieli Oltre i cieli Della Attenzione Oltre i cieli Oltre i cieli Della avventura Perché stavo Stavo provando Conan Prima Per cui Allora Oltre i cieli Dell'avventura L'antà senza paura La tua sfera Poché Negli incontri Nelle battaglie Vincerai le medaglie Da portare Con te E ti va Proprio lì È una cosa Che va Va da sola È un fiume L'ho rimessa giù No Io guarda Difficilmente Mi mancano Le parole Hai pianto Sei riuscito A zittire Il pardo Complimenti E mercoledì Io me la guardo Perché tanto Mercoledì Ore 21 Ore 21 Io tanto faccio Live 18 20 45 Che c'ho Un campionato Che ho organizzato Del quale Preparati Prossima edizione La sigla La voglio Bye Ammiraglio Max Giorgio E dopo di che Sarò proprio In prima persona A guardarmi Non lo dico Per farla marchettata Ma proprio perché Grazie Mi piacciono Ste cose Anche perché Poi in un momento Del genere In generale Il movimento Proprio degli artisti Del mondo Dello spettacolo Va supportato Lo dico sempre A tutti i ragazzi Lo sanno In questo momento In particolare Allora Io E l'ammiraglio Max Abbiamo fatto Tante cose Insomma La nostra vita È felice Va bene Tutto quanto Non ci mancano Allora Non è Non so più bene Come dirlo Però non siamo In una crisi Pazzesca Però ragazzi Noi artisti No Noi artisti In qualche modo Affermati Io lo dico Veramente sottovoce Affermati Ma più che altro Perché abbiamo Io in particolare Io e Max Abbiamo tutto questo affetto Che ci arriva Non sto parlando Di ricchezza O no Assolutamente Diciamo che però Il problema Il problema In questo momento Per quanto riguarda Gli spettacoli È veramente Delle maestranze Di chi monta i palchi Dei tecnici Dei fonici Che magari appunto Non guadagnano I diritti d'autore Questo tipo di Fonti di guadagno Ecco E per cui Dobbiamo veramente Darci da fare E cercare di Ricostruire Quello che abbiamo Perso Fino adesso Col covid Perché è stato Veramente durissima È veramente dura Ci sono persone Persone che sono In difficoltà Persone che lavorano In tutta In tutti In tutta l'economia In tutto il mercato Io ovviamente Penso a In particolare Alle persone Che lavorano Nel In questo ambito Nell'ambito Dello spettacolo Ecco Per cui Devo avere Un'attenzione Particolare Verso questa Problematica Ecco No ma Secondo me Guarda È un'ottima trovata Perché Si riesce anche A coniugare un po' Ha visto L'esigenza De rimettersi un po' In moto E anche in allenamento Perché poi Secondo me Siamo molto vicini In termini ancora Di qualche mese Forse A quando Potremo finalmente Riascoltarti Live Su un palco Non vedo l'ora Con anche Magari Le innovazioni Che abbiamo Tecnologiche In questo senso Che abbiamo riscoperto Durante questa quarantena Insomma abbiamo scoperto Che lo smart working Adesso è fattibile Ah beh Sì assolutamente Che ci sono un sacco Di piattaforme Che ci permettono Di fare queste cose Quindi insomma Why not Anche perché magari Potrebbe essere Che in un futuro Potrai mantenere Sia il format Del concerto Live Sia Ogni tanto Il format Del concerto Perché magari Non si può muovere Ecco Ma no ma assolutamente Assolutamente Infatti abbiamo Avevamo pensato Proprio a questo Fare comunque Delle live Ancora delle live Proprio per chi Non riesce Non può Raggiungerci E noi ci siamo Io e Max Ci stiamo Ci stiamo ingegnando Io Max E il nostro Grandissimo Bravissimo collaboratore Daniele Cuccione Che è il nuovo Appunto Il nuovo nostro collaboratore Che ha Prodotto Insieme A Max Cioè Con la supervisione Dell'ammiraglio Ha prodotto Sole Luna Pokémon Sole Luna My Hero Academia Dragon Ball No Dragon Ball Super Bellissimo My Hero Academia Io non ho mai visto Una puntata Del cartone Perché non c'ho tempo Ma la sigla Ce l'ho fra i preferiti Su Spotify Grazie Sì Sta andando molto Molto bene È andata molto bene E poi supereroi Insieme al DJ Matrix No no La voce Ci mette la voce Ci mette la voce Ci mette la melodia Un po' Di idee Che vengono Ovviamente Catalizzate Poi Messe a posto Dall'ammiraglio E a me piace molto Lavorare così Io butto fuori Tante idee Tante melodie Eccetera eccetera L'ammiraglio Le raccoglie Con altrettanta creatività E le Le modella Le modella Le modella Americana Lasciatevi Sta domandando Ma come fa A mantenersi Così giovane Ok ragazzi Quando uno fa Della propria passione Vive Aspetta È anche colpa sua Capite È veramente È veramente Tra virgolette Facile Mi chiedono Se puoi cantare Un tuo grande successo Come Shaman King Ovviamente Ma ragazzi Ma Aspetta Aspetta Io lo adoro Shaman King No anch'io Anch'io È bellissima Io di Masini Di Masini Su Spotify Ne ho due Ho Shaman King E quella Quella che è un Bravo No ragazzi A me piace Tantissimo Shaman King Tanto di cappello Masini Perché Perché È veramente Una bella sigla Si sente Che lui ama La musica Che nel momento In cui ha fatto Quella sigla Non gliene fregava Un cazzo Scusa Non si può dire Sì sì No qui si può Anzi È quasi Non gliene fregava Un cazzo Che fosse una sigla O una canzone Lui è andato E l'ha fatto Grande E la fa Bene E lui la sua carriera È sempre stata quella Tant'è che secondo me Non è entrato nel gota Del salotto buono Proprio perché Non deve essere piaciuto A tanti In carriera Perché si è Un po' fregato Il cartone animato Dice ma ti rovina Gli avrà detto la gente La faccio E infatti adesso Infatti adesso Tanta di quella gente Eh ma vorrei fare Una sigla Dei cartoni animati Adesso non si può più Non si può più Eh no Quindi signori Mercoledì Oh io Quando faccio questi Reminder Non è perché Voglio come dire Calare si pare E mandarti via Ovviamente immagino Sarai alle prese Prove Ok quindi Quando vuoi vai Ma per me Se stai fino alle nove Io sono Contento Anche perché Lo diciamo Eh diciamolo Assolutamente Diciamolo via Anche perché Con il buon Giorgio Abbiamo deciso Che rifacciamo Post questo concertone Una live Insieme Dove si stavano Rettine e mezzo Insieme A ragionare A cazzeggiare A dire A dirci Così le cose Sul canale Così in live Tranquilli Dove appunto Magari in quell'occasione Facciamo in modo Anche che tu possa Leggere la chat Così puoi rispondere Direttamente ai ragazzi Certo Tanto guarda qui C'è una community La mia Che è È attiva È attiva Ma è fatta di persone Guarda Autoregolanti Eccezionali No ma lo so Ma questa è una Passione sana Anche vabbè Si può dire Cazzo Ma Però è una Passione sana Ragazzi È una passione sana È una passione creativa È una passione colorata Che fa bene Fa bene al cuore Fa bene anche al fisico Perché poi Certo perché si esce E si va A cercare A catturare i pokemon Capisci Per cui Oggi Oggi le chiamiamo così Va bene Va bene Ma facciamo questa Faremo questa diretta Dove io Potrò cantare Viva i pokemon Tosti e prorompenti Tutti Noi piangeremo E piangeremo insieme No Francesco Adesso effettivamente Ragazzi Abbiamo fatto Io devo veramente Ringraziare Francesco Perché Ma figurati No 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 È vero La verità Mi hai dato l'opportunità Di poter promuovere Questo esperimento Che però Non sarà un esperimento Sarà una figata Questo live Di mercoledì sera Mi raccomando Venite sui Sui miei social Seguitemi Per avere tutte le informazioni E per cui Devo ringraziare Quella live Che terminerà La mia Fra ancora Un bel po' Regalerò Voglio regalare Un ingresso Al concerto virtuale Di Giorgione Wow Dopo Dopo esprimeremo Le modalità Di selezione E insomma Va bene Giorgione Grazie Io ti ringrazio È stato un piacere Averti qua Francesco Piacere mio Grazie Io vi abbraccio Tutti Ragazzi Ciurma Pokemonari Appassionati Dei Degli anime Appassionati Appassionati Di qualcosa Che ripeto È sano È creativo E ci fa star bene Vi abbraccio tutti Vi aspetto Mercoledì sera Ma anche Soprattutto Soprattutto Mercoledì sera Soprattutto anche Alla live Insieme a Francesco Che faremo Fine mese Sì dai Ce la prendiamo Con calma Perché la vogliamo Preparare bene Ma insomma Ormai Ormai è decisa Se no Se no ti mando Gioele Cioè non è che Giorgio Grazie mille Per la disponibilità Guarda Faccio da Indiretto Tramite La chat Che ti manda Tanti cuori E vedo che In tanti Mercoledì Mi sa che Li ritroverai Grazie Eh ragazzi Volevo dire Solo una cosa Vai 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 Sereno Ricordatevi una cosa Gara Catch and Wall Ciao Ciao